Ciao a tutti, mi chiamo Salvo Elio, sono italiano, vengo da Genova, ho 46 anni, ho trovato l'assessore del turismo via internet, cercando, guardo, ho fatto mille preventivi, Croazia, Albania, Ungheria, poi ho trovato già qua in Moldaga che secondo me ha dei prezzi molto meglio e oltre tutto mi sono trovato benissimo, come appartamenti, come persone, poi parlano parecchio l'italiano, perciò non ce n'è problemi nella lingua, potete venire anche se non sapete l'inglese, come io non lo so l'inglese, mi sono trovato benissimo, ci sono i ristoranti anche con i menù italiani, c'è tutto e oltretutto anche il mangiare costa veramente poco, delinquenza non ho visto una, zero delinquenti, è meglio che da noi in Italia ragazzi, perché da noi sono tutti dei ladri qua invece, puoi girare anche le due di notte da solo che non ti dice niente a nessuno, è un posto, mi sono trovato benissimo, il mio problema avevo la peoria, l'ho scoperto da solo, perché i dentisti mi strappavano solo i denti e basta, io faccio il triatlon e ogni volta che andavo in bicicletta mi usciva a nascerzo e andavo dal dentista che strappava un dente, un dente, due denti, tre denti, non riuscivo più a andare in bici, non riuscivo più a fare niente, poi informandomi ho visto che avevo la peoria, informandomi da solo e allora poi, essendo che la peoria non c'è rimedio, bisogna togliere tutti i denti e allora da lì ho incominciato a fare i preventivi. C'è i denti nuovi, posso sorridere, oltretutto me l'hanno messa che sarà mezz'ora fa e già non ho dolori, mi sta benissimo, è perfetta. Io vi dico di venire perché sono persone competenti e specializzate, c'è un reparto sotto, stupendo, sono tutti organizzati e sono secondo me anche meglio degli italiani, perché come sappiamo in Italia sono tutti mezzi di ladroni, ma hanno fatto dei preventivi in Italia da 60-70 mila euro, cioè non è che dico, però io sono un fietomigliere e guadagno 1.500 euro al mese, era impossibile che potevo permettermi di mettermi i denti, meno male che guardando su internet i preventivi sono riuscito a trovare, a venire qua in Voldavia, oltretutto anche il volo non costa niente, con 150 euro ho pagato il volo, ci ho messo due ore e sono arrivato qua, non c'è neanche tanto tempo di viaggio diciamo, 150 euro andatevi a trovare.